In questi giorni sento spesso parlare di politica e leggo con estrema curiosità le vostre esternazioni e i vostri commenti su Facebook. Capisco che la situazione italiana non sia delle più belle, delle più rose, e capisco anche il senso di frustrazione che alberga in questo momento nelle persone. In ogni caso noi siamo qua, qua combattiamo, qua ci giochiamo la nostra partita, in Italia abbiamo il nostro ring, e non venitemi fuori con storie del tipo all'estero è meglio, perché non è assolutamente così. Kiyosaki ripete sempre, fai la differenza se crei sistemi di relazione nel business, di relazione fra le persone, ma se ti metti in fila ad aspettare il tuo posto di lavoro, come fanno tantissime persone, sicuramente otterrai i risultati che ottiene il 95% della popolazione. Quindi se sei fra quelli che pretendi il tuo posto di lavoro, se ti metti in fila ad aspettare che qualcuno riconosca i tuoi meriti, allora piuttosto che in Italia puoi farlo anche all'estero, magari sì, la fila è un pochino più corta. Ma se parti da zero, se vuoi costruire con forza qualcosa di tuo, è inutile attendere il politico onesto, è inutile attendere la riforma che farà la differenza, perché se c'è una cosa che ho imparato nel tempo, è che se qui c'è il popolo, alla base, le riforme producono i loro effetti positivi da qui in su. Quindi piuttosto che aspettare quel treno che non passerà mai, piuttosto che aspettare il lavoro che ti cambierà la vita, piuttosto che aspettare la telefonata dell'ennesima banca fallita che ti dirà, eh, ci dispiace, i tuoi risparmi sul conto corrente non ci sono più. Inizia a cambiare la tua vita, inizia da te stesso, ora, adesso, muoviti, acquisisci conoscenze, acquisisci nuove informazioni. Solo se ti mantieni in movimento riesci a mantenere l'equilibrio nella vita. Acquisisci un metodo sicuro che permetta di assicurarti un futuro finanziario, Anche partendo da zero, senza affidare i tuoi soldi alle banche, senza affidare i tuoi soldi a nessuno, ci sei tu, la tua vita, la tua Italia e le persone a cui vivo bene. Basta, abbi cura di te stesso, iniziando a scommettere su te stesso.